buongiorno amici questa è radioscream italia con tu si matto tur allora ragazzi ieri sera tragedia proprio che tragedia sono arrivato in quel di san colombano che ero praticamente distrutto avendo caricato troppo per arrivare in tempo per fare il check in al motel e allora ho passato una notte no notte tranquilla per addormentarmi è stato un bel casino però siamo vivi ora siamo diretti siamo solo una diretta in direzione piacenza e sapete quella cosa divertente che io cammino le macchine dietro che è bello per la prima volta non faccio traffico ragazzi allora che giornata del cazzo ragazzi sto per campi di pomodoro e campi di pomodoro ora sto raggiungendo questo motel e mi fermerò per oggi va bene così devo far riposare non il mio corpo ma il mio cervello che sta andando un attimo in pappa allora signori sono a letto è un bel letto partirò una mattina penso prima del previsto se riesco a collassaremo tranquillamente parma verso reggio emilia ragazzi bene è stato un piacere un bacio ci teniamo a due giornate tu sei matto tu per ora continua mamma che sveglia grazie a tutti grazie a tutti